Dura ormai da diversi giorni l'operazione di spegnimento da parte dei vigili del fuoco della cupola della chiesa di Santa Croce e Santa Maria della Misericordia Bellante, dove alcune antiche travi di legno situate nella muratura o nel piccolo spazio tra la cupola e il tetto esterno sono soggette a una combustione covante e cioè senza fiamme. Nella chiesa del Cinquecento danneggiata dal terremoto si stavano facendo dei lavori di ristrutturazione da circa un anno e mezzo con fondi del sisma ed erano quasi giunti al termine. Da qualche giorno una struttura in legno che si presume reggesse la cupola della chiesa ha preso fuoco con una combustione lenta probabilmente ma non è certo a causa diciamo delle lavorazioni in corso all'interno della chiesa che era interessata dalla ricostruzione post sisma e il problema è che questo incendio che in realtà poi un incendio non è una carbonizzazione lenta delle travi è difficilissima da spegnere quindi i vigili del fuoco sono impegnati da più giorni a cercare di capire come meglio intervenire per diciamo non sovraccaricare anche di acqua la cupola con rischio di crolli. Potrebbe mettere a rischio anche le strutture vicine? No, le strutture vicine penso di poterlo escludere perché comunque tutto al momento è concentrato all'interno della cupola che è centrale rispetto alla chiesa. Il problema è che bisognerebbe anche cercare di non pregiudicare appunto la struttura della cupola con il rischio che crolli. I vigili del fuoco hanno fatto alcuni fori sulla muratura per introdurre delle minuscole lancia antincendio nebulizzanti da tetto per cercare di controllare la combustione e tenere basse le temperature. Altri fori sono stati fatti sul tetto per esaminare con una telecamera gli spazi inferiori e controllare le condizioni delle strutture linee. Bisognerà cercare di trovare al più presto una soluzione definitiva per lo spegnimento diciamo di questo focolaio, di questo fuoco che brucia all'interno delle strutture della chiesa e poi cercare di capire esattamente cosa è successo ma soprattutto cosa si deve fare per restituire la chiesa alla comunità. E' preoccupato? Sono particolarmente preoccupato sì.